Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo ottavo episodio della Soulink a Pokemon Rubino e Zafiro Non so perché viene da ridere, comunque qui con noi c'è C'è il Rocet, eccolo qua tutto illuminato nella sua incredibile stanza Quanto ragazzi quanto è bello il Rocet, quanto è bello il Rocet Incredibile Allora quest'oggi siamo appunto nell'ottavo episodio della Soulink Crazy Lock Luke che cosa andremo a fare? Direi che dopo aver tutto la paese in questa cittadina direi che andiamo avanti verso nord, verso nuove catture abbastanza in questo episodio ragazzi E anche a volte passare il cammino ardente se non ricordo male si chiama così Attenzione Bravo che ha cercato il nome fuori parte, bravo Luke Mi avete beccato, ho fatto un pochino il furbo Così ti voglio, ok Stiamo affrontando la famiglia Vinci Ragazzi mi raccomando, sostenete questa serie Sostenete questa serie Lasciate tanti, beh mi piace Manda in campo Mewtwo, mi sembra più che corretto Un po' che va veramente easy per la famiglia Vinci Più che corretto Attenzione Mewtwo che utilizza Shippo, incredibile Mewtwo ladro Lo chiamavano, lo chiamavano il getto Lo chiamavano Il getto Lo chiamavano Oddio Allora dovete sapere anche ragazzi che Luke e Strons si è allenato più di man No, ma quest'uomo non ha nulla da fare e quindi questo questo passa i giorni e le notti per voi Ad allenarsi che mi raccomando Accede la roma e c'è già in poco meno allenati ormai vanno in automatico e poco Non lo sanno già Sono già cosa devono fare, sono avanti ragazzi c'è la roma Spettro veleno non so cosa fare Spero di romperlo con la famiglia Vinci perché sai come c'è Cioè io ho detto che di spettro veleno ragazzi giustamente cosa gli faccio? Uovo bomba Chiaro giustissimo dire che ha un modificato Ovvio E' un pochino master mi chiamavano Ah teatro ragazzi ho ordenato le ultime due coppie che per me era Nidorina Il suo dovuto per invece gioia mi pare crotone e Non mi ricordo d'altro ma è comunque sia lui Eh cascofoli Giusto ma come c'è lo faccio dimenticando Allora c'è un altro crotone che mi sta affrontando di dubbia Ok perfetto mi stava addormentando continuamente una roba lucidante Pazzo in croccoto ma dove ma a casa No non va a casa Attenzione raga non va a casa Dai eh sì però allora uno si cura dal sonno e giustamente lo confondono Chi è giusto giusto affinché si curi con uno Ma congelato ma stai scherzando Stai a dire madonna Madonna città Guarda oh allora ha fatto Sono passati tre turni mi ha dato tre condizioni di stato diverse Eh vedi vedi sta sta arrivando il momento mad madonna Stai arrivando il momento hashtag mad madonna Siamo parlando adesso un link di pochino rosso e blufa per voi Quindi occhio Oddio Abbiamo un gasto di tipo spettro Sai quanti PS mi sono tolto con la confusione Eh metà PS Non sto no ma pure paralizzato Eh Allora ho beccato quattro condizioni diverse nella stessa battaglia Non è possibile Ti manca solo magari il congelamento se non l'hai insieme No ma congelato mi è già congelato mi manca la bruciatura Oddio sei a sé l'ho già congelato Cioè madonna Sì Del peggio sfi che ti stanno capitando Oddio no E manda in campo spinda Ok E fa terremoto Oddio si sclerato Spinda non dovevi dirlo Spinda no Iniziamo bene sta parte mi dico Eh guarda Ad insegnare poi della forza da parte della nostra squadra Potentissimo Spettacolo Comunque Ok e poi la vecchietta giustamente che Pokémon c'ha Warpolo No a me c'era tipo Kabuto L'ho tipo shotato malissimo Ce l'ho fatta ma che sofferenza L'ho rimandato nel quadro litico Non si era mai vista Mi mancava davvero il veleno e la bruciatura Poi tutte le avevo prese Poi potremmo tranquillamente chiudere la serie Perché niente E' già toccato Facceva già ridere così in poche parole E noi ci prechiamo in un prossimo video Vai vai No non è finita Tra l'altro la tipa dentro da uno strumento Ma sarà randomizzato che? Ah da uno strumento qua Aspetto alla ragazza La Crici K Dopo per la matra La matra La matra Aspetta che vado a vedere Esatto Bellissimo Cosa mi dà Volendo potremmo No ma tanto Il percorso Il percorso 211 Proseguiva di sopra Allora ti ricordo Allora c'è un percorso unico E praticamente dobbiamo fare il 111 Poi il cammino ardente E poi quello dopo Brunifoglia Ok perfetto Allora affronto questa copietta Bellissima Non esce un geno Tutto quando fai spaccaroccia no? Eh non per forza Vediamo un po' se mi esce Non è uscito Beh allora lo faremo dell'erba Fa pochissimo Sì sì Praticamente mi ricordo che in quell'erba lì Raga si trova solo Io sono un numero L'ho trovato in quel posto Non l'ho trovato mai Forse anche se Ma proprio raro Mi sa No 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 Secondo me era nel deserto Ah sono nel deserto Boh allora ci sta Non è sì Ci sta un botto Raga Un po' Polito Mi appare Attenzione Non è sto polito Ahi è movimento sismico Bruttissimo Ok Bailey fa andato giù Taurus fa pugno D'ombra su crotone Hai a vita arancione Non fare Non fare voglia crotone Che veramente Deve arrivare al fondo Stare leggendo Intanto è il pokemon Con livello più alto Dalla mia scuola No giraci dai Un cappeggista Che mi manda a giraci Dove l'ha trovato E ascolta A me è una pupa Un po' che fa Mi ha mandato Mi tu Fai te Beh Onesto Un pokemon Scarsetto Tra l'altro Io li ho Che non so Tema di intervista Non gliela mollone Io infatti Non li ho neanche affrontati Quelli possono anche stare lì A aspettarmi Fino al prossimo gioco Pokemon Io li ho presi a botte E intanto John Frog Che si palesa E tenta di uccidermi Allora Però c'è un problema Allora Quello dritto Eh dica Ehi là Ha mandato iPom Bella a tutti Scimmietti Ok no Spero che le vostre Veriche sanno ancora Vivi dopo questo mio urlo Frigovita Sei per colpa Di un critical Di extrasenso Ah comunque Gio Ci sono tre percorsi Ho sbagliato uno Come tre percorsi Allora Io do Il 111 Penso sia anche Il deserto No Sì Quindi per adesso Su 111 Non possiamo fare niente Perché non abbiamo ancora Lo strumento Non possiamo No 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 Percorso 100 Ah è vero E' 100 dolce Gio E' 100 dolce E' vero Allora ce lo teniamo Ce lo teniamo A questo punto A questo percorso Raga Facciamo 100 dolce Vai Vai tu Luke Lasciamo raga L'onore a rocci Sto andando Sto andando E' un'itmo on top Ok vabbè Poteva andare meglio Diciamo Non è che mi lamentavo Ok Allora Adesso Scopriremo Tantro sto sbagliando I tasti Scopriremo Il pokemon Io non so se All'epoca No io ce l'ho L'ho compatta Prima di iniziale Quindi sono Oh giusto Cristo Venomot Peccato Non si possono evogliare Poteva andarmi No cazzo I tipi Sono randomizzati Non gli ho fatto una sega Andiamo Ti vedo Non crepare Corso di pugno Per favore Non crepare Non crepare Ok Non gli faccio Una niente Uh Tutto colpo Oddio Cioè No L'ho malata vita rossa Ok Perfetto Io ho preso Venomot E penso di chiamarlo Koga In onore Di No Vecchi tempi Oddio Dai che lo devo catturare Assolutamente Dai Catturato Yes Perfetto Abbiamo un'altra coppia D'eccezione Come riceve Da fanno schifo Però vabbè Noi facciamo finta Che sia D'eccezione No no In realtà ci sta Ci sono come riserva Al momento Però poi magari Li metteremo più avanti Allora Sì infatti Nel caso ragazzi Dovesse schiettarci Qualche poche Non tocca ferro Non so se c'è Qualcosa di ferro Tu Il meter Ah non ho Fosse Il meter No Non è ferro Il meter Saravo Plastica Giapponese Boco Comunque Io ho il mio Ritmo on top Lo chiamo Bayblade Mamma mia I bellissimi nickname Andate sul canale di Luke E lasciate dislike Alla parte 7 Ma c'è stata Oppure Perché Volevi chiamarlo Non so Non mi più trash Io l'avevo chiamato Trottola Appunto Non volevo Diamo chiamarlo Trottola È un pochino Di Luke È il secondo Spina Che mi mandano In campo In questo episodio È un messaggio Che stai cercando Di mandarmi Vuoi fare La sua unica Oddio Mi hanno appena Mandato Pikachu È un messaggio È un messaggio Oddio È un messaggio È un messaggio Sì ragazzi Quest'episodio Andrà di merda Sì ragazzi Se perdiamo Vi abbiamo voluto bene Insomma Comunque Bastardo Rochett Che fa le soul Link con gli altri Youtuber Perché È costretto Per contratto A farle solo Con me Ragazzi Quindi Ho firmato Il contratto Che aveva L'altro Qualcone Guardate Le coppie C'è Il contratto Tirando fuori In foglie Raga Non li vedo Però vorrei Vederlo Ma si Li vedai Poi Non ho visto il Tapping Del mio Itmondo Perché Non me l'ha spedito In subito Nel pc Quindi Anche io Io mi sa Che Vado a vedere Sul poche Alex Ah si No Magari Ho provato Dopo Non Non Tevo D'altare In questa Generazione Madonna Un altro Leggendario Cristo Dio C'è un beccato Un voto Di leggendario Ragazzi In questo Episodio Stuttivo Già il terzo Forse Che trovano Non lo so Mi fa Staffetta E poi Da rodanza Ma si Serio Perché C'è La mamma Un po Diciamo Cammella C'è La mamma Un po C'è Visto Che Uno Shield Oddio Arcanine Arcanine Con Splash Ok L'ho visto Tutto Voglio Un meme Per piacere Di un Arcanine Che fa Splash Vi prego Fatelo Fatelo Sto incontrando Un Deliverde Che sta Resistendo La madonna E io ho un Queefish Che mi ricorda I vecchi tempi Di Pokémon Snakewood Però Attenzione Che ho trovato Un altro Fottuto Leggendario Registeel Mi stai Pigliando Per il culo C'è Sto 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 Perché Praticamente Sai Ogni Tanto L'avrei Visto Forse Nel Mio Vito Ogni Tanto Mi Si Blocca La Rom Ho Premuto Tipo La Hashtag Creepy Master Mi Raccomando Ma Merda Chi Chi E Ragazzi Shine Non è Scherzi Andiamo A me Cicolita Mi è capitato Il 15 Oltretutto Grande Oh Grande Sono Becco Questo Questo Lato Ci ha Fottuto Iperraggio Ragazzi Parliamone Possono Chiamarlo Shiny Non Chiamarlo Shiny Sei Obbligato Per contratto A chiamarlo Shiny Quindi Devi farlo Ragazzi Perché Sono Sul Mio Canale Forse Non Sapete La Storia Di Natu Shiny Se Non La Sapete Vi Invito A Ragazzi Abbiamo Organizzato Un troll A Luk In Live Facendogli Credere Di Aver Trovato Un Natu Shiny Il troll Inizia Tipo A 57 Sì Tipo 58 Minuti Comunque Si Ho Trovate Nel Comunque E È Buono Insomma Il 15 Potrei Metterlo Poi Nella prossima Tantemporaneamente Per vedere In cosa Si evolve Magari Volendo Anche Alla fine Di Questa Così Faccio Un po Di Click Wait Anch'io Ragazzi Doviamo Doviamo Pur vivere C'è Crisi Non So Comunque Tra l'altro Vorrei Inaugurare In questo Video Anche Se Sarà Successo Già Un po L'arrivo Della Paypal Finalmente Posso Essere Un Venduto Vero Ragazzi Non Se Vi Una Volta Con La Per C'è Dai Vergognati Non Sono Più Quello Del Computer Che Facce Non Sono Più Con Smeraldo Coop Insieme A Roche Di Tre Anni Fa No Comunque Non So Te Io Sono Tipo Uscito Dal Tunnel Sono Ad No Invece Li Sto Ponendo Ponte Con Creepio Però Il Biner Ok No Più Che Altro C'è Luke Io Avevo Fuori Il Fottutissimo Kingler E Un Po Mi Fa Terremoto Mando Federica E Si Sa Che Federica Ci Starebbe Secondo Ma Per I POM L'abilità Levitazione Praticamente Lui Sardella Sempre È Vero Ci Starebbe Abbastanza Azze Cate Come Abilità Adesso Questo Questo Flash Dal Nulla Ok Perfetto No Ho Tutto Metti Schizzo Io E Rochetto Furbone Ragazzi Non Pensate Male Perché Poi Ci Devi Dire Qualcosa Sui Orientamenti Sessuali Perché Un Tiss Nato L'MT Quanto Perché Questo Qua Schizzato Perché Rochetto È Uno Schianto E Io Che M Ho Trovato Schianto No Non La Dico Perché Poi Non Dico Niente Comunque Ah Tipo La Tipo Che Ti Curano Me La Ricordata Nella Casa La Vecchietta Mi Sono Curato Adesso Vado Ragazzi Nel Percorso Della Cena Dove Facciamo Una Nuova Cattura Qui Altro Ragazzi Quanto È Che Dico Che Che Leggendari Arrivano Anche Del Rochetto Abbagliante Oddio No No Ud Ud No Aspetta Absolo S Punto Tengo Casco Fra Troppo Forte Madonna C'era Che Siamo Fortissimi Non So Tagli Quindi Nei Pokemon Stanno Aprendo Culi Ad Estre Manca Sta Buttando Giù Crobat Sto Arris Quindi Devo Fara Che Adesso Ci Farà Vedere Le Sui Dotti Da Pokemon Master Aspettate Un attimo Che Sono Un po Che Ho Sconfitto Anche Dragon E Quindi Adesso Arriverò Tutto Per Voi Per La Ho Trovato Ho Trovato Persia Vabbè Raga Io Posso Joyce Che Applaud Perché C'è Veramente Allora Tecnicamente Sottomissione Non Dovrebbe Buttarlo Oh Mio Dio Bulbasaur Ha Fatto Esplosione Ma Fallito Calma Cosa Vuol Dire Che Ha Fallito Perché C'ho L'abilità Umidità Te Ricordi Che Mi Onidolina C'è Culo Di Mero Raga Vi rendete Conto Quindi Io Devo Atturamente Tirare Una Megavola Sennò Questo Qua Si Fa Saltare In Aria Peggio Del Disi Tra l'altro Catturato Persia Ovviamente Ovvio Tazuka Mi Piace Guardate Mi raccomando Lo schermo Del Rochette Perché In Questo Momento C'è Una Battaglia All'ultimo Sangue Con Destino Ci Stiamo Veramente Picchiando Il Bulbasauri In Questo Momento Veramente Lo Sto Ne Starter C'hanno Il Catch Rate Quello Brutto L'ho Adormentato Ancora Una Mega Vole Due Poké Voglio Vediamo Un po' Se Queste Tre Ci Stai Bello Deoxys Selvatico Comunque L'ho Tirato La Mega Quando Ha Fatto Neanche Un Giro Quindi La Vedo Questa 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 C'è 1 2 3 No Quella Poca Ho Fatto Tre Giri Ok Fuggito Ultima Pokéball E poi Raga Dobbiamo Shotarlo Malissimo Lo facciamo Esplodere Praticamente Come lui Ha cercato 1 No Niente Niente È troppo Difficile Peccato Peccato Eh vabbè Ragazzi Balsa Balsa Volevo dire Che io Non so Se nello Scorso Episodio Ve l'ho Fatto Vedere Ragazzi Ma Bocelli Ha La Conchinella La Conchinella Bella Bocelli Diciamo Che ci ho visto Giusto Su questo Strumento Ho trovato Una Ragazzi Quanto Quanto A culo Quest'uomo Parliamo Quest'uomo Trova Gli starter Che stanno Per evolvere E trova Gli avanzi Cioè Io Non ho parole Aspetta Fammi capire Dove Dove Hai Sopra Il bullo Sopra Il bullo Sopra Il bullo C'è Uno Stronzo Ecco Che sono abbastanza Male Che abbia tipo Boh Vabbè Che tipo Un pigio Gli ha fatto Qualcosa In testa Ma Questa serie E' il delirio E' il delirio E' il delirio Perché Quando andiamo a dire queste cose Capite che il delirio è cominciato Dai Troppo forte Ok Cascop Puoi ritornare Che hai già preso Edvige Edvige Attenzione Raga Edvige Dalla serie Diamante ad una Fantastico Incredibile E mi fa iperraggio Ok Ho fatto Stoffetto È gay Che Hai iperraggio Su Federica Potrebbe far male Federica Mi ha fatto una sega Allora Perfetto Allora Fammi capire Ho trovato la fascia rosa Wow Una difesa X Vita l'erba Che bella la vita Ma te ne sai trovando di vita l'erba Tipo troppe 3.000 3.000 Per fare la collezione E poi dopo le rivendi Al mercato No serie Ui metti 30 Nella cena Vediamo un po' No sono una lì Ma dai Bello bello Sono una lì Ragazzi Gran bossa Madonna VGC 2000 E poi E poi un budo Mi manda Groudon Mi sembra giustissimo Eh chiaro Complimenti Leggendaria palate Comunque vorrei far notare E mi fa tornare E mi fa tornare E mi toglie bene Un PS E tra l'altro Sì Le ombrelline E light four Ragazzi sono veramente Una cosa molto comune In questa regione Che ha particolari Meccanismi di lega Molto particolari I super quattro Sono tenuti Andare in giro Con gli ombrelli Giusto Giusto Infatti Oh Miracol seme No lo zaino troppo pieno Anche io Dobbiamo affrontare il terrore Allora Quando cominciamo lo zaino pieno Perché qua capita Perché prendiamo un botto di strumenti Prendiamo praticamente tutti Quindi Sarà difficile Ok Questo qua potrebbe tornarmi utile in futuro A parte che ho C'ho tipo tutti i tipi delle mosse Puntualmente L'unico che non ho È Indovina Aspetta Qual'era che non hai Miracol seme Miracol seme Quel tipo è Erba Grandissimo Fantastico Sia mai che Io posso avere uno strumento utile Si sa raga Che nelle mie serie Poi tanto con la randomizzazione Degli strumenti Io Trovo sempre merda Poi c'è Rogers Che dopo due palestre Masterball Comunque Gio Il mio Hitmon top È di tipo buio Ma sei già al centro Pokémon Yes Figura No raga C'è scusate Parliamo di quest'uomo Sono al centro Pokémon Mi outspeed In tutto Inizia a far evolvere I Pokémon Mentre io ti raggiungo Perché Invece circoli Toglio un po' di che typing Madonna Tanto lo cambia Per fortuna che cambia Giù perché ti dico solo Che è rocciaterra C'è madonna Bello rocciaterra Morte quotata Neanche Compressione Con Dica Giù Sai che quando inizio Così vuol dire Che in campo Ipon vero Bella a tutti Scimietti Bella a tutti Scimietti Sono ambi Bon 79 Allora Facciamo così Quest'oggi Farò un intervento Il vostro dito Aspetta Dica Giù Se lo psico Ok lo psico Non è Non ha effetto Sul buio Do psico Non ha effetto Sul buio Zero No Figa Pedinombra Di stronzo Infame Qui Ok Sono in una situazione Abbastanza critica Io Luke Io facciamo la ciclorita Spero che tutta la Tela possa cavare bene Ok Ok raga Luke Luke intrattieni che io devo Concentrarmi Bella raga Adesso vedete questo qua Insomma Che si evolve Ciclorita Voltarmi i tecnici All'avanguardia I big intrattenimenti Bella raga Oggi siamo qui Giotti Ti vedo in difficoltà Purtroppo Eh ma perché ho beccato Sto armando qua Che mi continua Cioè io non ho Allora il mio patti Non ha attacco Fisico praticamente Psicoraggio Non ha effetto Porca troia Continua a fallire Sottomissione E sto andando giù Ok l'ho buttato giù Bella 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 Io facevo la ciclorita Allora C'era il C'era il ninja Che si chiamava Ghostwriter Guarda l'ha mandato Di youtube Ma che cazzo Perché Ragazzi è stato Licenziato Da qualche youtuber Che voleva scrivere Sicuro Sicuramente Mamma Aspetta qua c'è uno strumento MT Ah MT 06 Anch'io Anch'io una MT E Psicoraggio La mostra Che prima Attenzione Finiamo l'episodio Con 5 vita Che se vuole Attenzione Attenzione Cos'è Non voglio sapere E' una paesa per il culo E' una paesa per il culo No ma non è bailiff Non è Allora Sai capirò O Tu ho Non è bulbasaur E' venusaur Ma no E' venusaur Te lo giuro Ma no Venusaur Raga Beh potrei mettere nel team Però per il momento non lo so Ma non ci credo Venusaur di tipo fuoco Con previsioni Oddio Raga E' il disagio Allora aspetta che controllo tutti i pokemon Catturato Allora abbiamo Tra l'altro Raga Catturare dei pokemon Che si evolvono normalmente O sia mai Oddio Venomot Terra Drago Lotto a scudo Evita i brutti colpi Attacca di Aromaterapia Colpo di fango Regalino Madonna che Che buona Comunque per il momento Lo lascio nel pc Non so come Tanto abbiamo una squadra abbastanza buona Per il momento Quindi ragazzi Lo metteremo poi più avanti Eh dica Dica Natua Puro gelo Allora aspetta Aspetta Questa è spettacolare Moveset Puro gelo Smog Iperraggio Uovo bomba Sì Tipo normale Coleottero Abilità Cambia colore Madonna Ma che pokemon Ma cos'è Ma cos'è Un esperimento Riuscito male Oddio Oddio Che è successo Luke Persian Di tipo fuoco Terra Abilità Levitazione Abilità attacchi Di tipo terra Buon Beh l'evitazione Così Buona Mossa vampata Durazione Sdoppiatori Gioco di ruolo Minchia ragazzi Che catture che ho fatto io Beh Queste persone qua ragazzi Sono abbastanza bene le catture Direi che nel prossimo Ne faremo altre Due Altre due Esattamente ragazzi Direi proprio nel prossimo Perché questo Si conclude qui Speriamo che vi sia piaciuto Se è così Vi invitiamo Come al solito Lasciare un bel mi piace Un commento e Ragazzi Mi raccomando La campanella Quella la campanella Ma non sarà mia outro Un'iscrizione al canale Se non siete ancora iscritti Però Ricordato Luke Lo sottolinea La campanella The campanella Is the way Citando qualcuno Per trasformare questo canale In una chiesa E Che altro I social in descrizione Mi raccomando Passate al canale del rocette Per l'episodio 9 7 5 3 E 1 E anche Ho finito Hai finito E quindi ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo Video Bye bye